BIGGESTYS Jigglypuff Andiamo Ma porca vacca Aspetta qua c'è qualcosa Pasta è apparso qualcuno Ma che cazzo Ti stavo aspettando I'll wait in here Fai paura pasta Che cazzo è questa cosa qua Assaggio in Jigglypuff Jigglypuff Masta quella merda Nooo Secondo te si mangia altre cose Vediamo Vediamo se si mangia sto zombie Oh i neri gli piacciono Ma che cazzo ma basta Luca Luca Salvato Ok Ammazza sti cosi Big boss Never forget Ho un'idea per buttarti all'altra parte Pasta Vedi questi spuntoni Pasta Vedi sto carrello Pasta Ok vai Ho capito Salta dentro Pasta Sei pronto? Oh piano 3 Oh fai piano Oh Ecco Salta su 3 morto praticamente 3 Oh mio D 2 1 Oh mio Dio Ha funzionato In realtà speravo che morissi però Che cazzo hai fatto? Non so Entra te Non dobbiamo salire di qua dietro Non c'è qualcosa Luca Entra Arrivo Non credo di si faccia Oddio Ma che fa? Che cosa fa? Porca putta Ci riprovo una seconda volta Ok Ma porca mi sei Vai Porca Oh ce la fai Piano Ma Aspetta posso Vai vai piano Tira lo verso te piano 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 Oh Siamo calmi Vai 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 Porca puttana Andiamo Oh Trove come nei film Basta Dove sei? Me Me Da Pezzo di merda Succede nei film Ogni volta Quello dietro Sanguinate che vanno verso l'A Mi piace Che piede c'è Che piede c'è? Oh pasta vai Vai te stavolta C'ha un 72 di piede Ma che è? Chi era quello? Basta Oh quanti sono? Basta aiutami Devo caricare Pasta Ficca Credo che Jigglypuff sia esploso con noi Luca cos'è? Non sarà bello pasta Ma tu hai Jigglypuff a far prova di quella? Ti dico che dopo dovrò resettare tutto Basta Che cazzo Addio Luca Jigglypuff Oddio Che cazzo è? Ma che Stai calmo te Scatoli di cartone che spariscono Mi dicono che è ben saldato questo Termosipone Che è sta roba verde Che cazzo Basta Ti conviene Ti conviene non fare il duro Perché io sono John Cena È un massimo beso Aspetta che provo a spararlo in fondo Oddio Che cazzo è 10 secondi remaining? Cosa vuol dire? 10 secondi remaining a cosa? Qualcosa esplode Cos'è? Che succede? Io sento Ma porca puttana Ma non spacca niente Ma dove è? Basta Un arpione Un arpione? Ma che cazzo? Ma che cazzo? È un arpione Che figata possiamo lanciarlo Guarda Oddio Andiamo a caccia di zombie Con l'arpione C'è l'arpione in mano? Ma Ma no Ma siamo tornati Allo stesso punto di prima Dobbiamo salire Ma dobbiamo scendere Cos'è? Oh Siamo calmi Basta Chi lo prende per primo? Vai Ho vinto Che potenza c'ha Snake nelle braccia Non hai visto quella Di Morgan Freeman C'è un codice Da inserire qua No Serve Delle energie Oh ma porca Ok Qualcuno? A parte Morgan Freeman A parte Big Boss Oh Stiamo calmi Chi spacca questo? Perché Salve Oh ma che cazzo? Basta io ho paura C'è qualcosa che corre qua Fammi provare a starmo un attimo Aspetta Su di me Lo voglio anch'io Ok Si fa sul serio adesso? Si fa sul pesante? L'energia L'energia Fatto Ok Cosa cazzo è stato? Cosa è stato? Attento Pasta Quando usciamo L'ho visto Ma dove c'è? Cosa è in pieno Ma che cazzo? Non ho capito se è Vai col coltellino Pasta Madonna Attenzione È un rampage Ma porca puttana Pasta Guarda che bello sta maceta Ficcate questa arma Chissà cosa fa? Vediamo Guarda Ok Guarda il maceta invece Vabbè L'orbital strike E' quello Guarda Guarda Fai Ah sta Dove stai? Morgan Freeman C'è un pacco per lei Oh Grazie Lo apra Ma porca Ma porca Grazie a tutti.